Numero 1 dello schieramento, rimane discosta Principessa Rex, Cavalli, vanno con la rottura di Prometeo, veloce invece dall'esterno Pegaso Bypass che compuista subito la testa. Nei confronti di Pellegrino Jet che ha a largo Pericolo Matley, più indietro Provenza OM, intanto Pericolo Matley supera Pellegrino Jet che non rischia in curva, 200 iniziali intanto per il leader Pegaso Bypass in 15-4. Intanto Pellegrino Jet superato anche da Piroma Nelod dopo 300 metri di gara, quarto iniziale che se ne va in 38 con leader sempre Pegaso Bypass nei confronti di Pericolo Matley. Ora Pellegrino Jet viene avanti in anticipo su Provenza OM, la sbatte in terza corsia, Pellegrino Jet in vantaggio al completamento dei 600 in 47-1, davanti a tutti è sempre Pegaso Bypass con Antonio Vitiello in sediolo. Pellegrino si impegna all'esterno, subisce però l'anticipo di Pericolo Matley che sposta all'altezza del giro in 1-2-1, guadagna una posizione in corda, Piroma Nelod torna sotto però Pericolo Matley, Pellegrino Jet ancora non si impegna. Totalmente chilometro in 1-17-7, 15-6 il parziale, sposta nuovamente Pericolo Matley seguito da Pellegrino Jet, all'accordo c'è Piroma Nelod che segue direttamente le mosse di Pegaso Bypass, poi anche Provenza OM. Intanto 400 alla conclusione con Pericolo Matley che è passato in vantaggio, Pellegrino Jet che si ingamba, Piroma Nelod che trova il varco per anticipare Provenza OM. Completamento della curva finale con Pellegrino Jet lanciato a ridosso di Pericolo Matley che si difende, più indietro Provenza OM ha scavalcato Pericolo Matley, retta d'arrivo, ci prova Pellegrino Jet su Pericolo Matley, l'impegna a fondo nel finale, passa Pellegrino Jet per concludere netto, mentre per il secondo posto Pericolo Matley precede ancora Provenza OM al quarto, Piroma Nelod. 1-15-8, 29-1 a chiudere, praticamente corre gli ultimi 600 soltanto, Pellegrino Jet trova l'anticipo di Pericolo Matley, ma in retta d'arrivo fa valere la sua maggior prestanza e nel finale passa largamente su un Pericolo Matley ancora molto positivo, il finale non bellissimo di meccanica comunque mantiene il secondo posto avanti a Provenza OM. Il successo per Pellegrino Jet, Michele Canali, il training di Vincenzo Tufano.